Ciao a tutti, oggi per la serie trucchetti vediamo due semplici trucchetti che ci permettono di trasferire file dal nostro smartphone al computer, in realtà anche tra più computer il secondo trucchetto. Ovviamente quando parlo di file mi riferisco tipicamente alle fotografie perché sapete che la posta elettronica mette sempre un limite alla dimensione degli allegati quindi difficilmente è possibile allegare fotografie con dimensioni maggiore di 5 o 10 mega nei casi più fortunati. I moderni smartphone scattano fotografie ad altissima qualità e avere immagini da 10 15 mega non è raro quindi diventa complesso inviare una o più immagini per posta elettronica. Il primo metodo che vi faccio vedere di due è quello più immediato alla portata di tutti avete uno smartphone che ha una presa per la ricarica e avete il cavetto della ricarica. Quindi infilate il cavo usb nel vostro computer e quindi nel vostro telefono. Dopo che lo avete inserito andate ad aprire questo pc e troverete il vostro telefono tra le risorse del computer. Ci cliccate sopra due volte e vedete che la cartella è vuota. Questo perché il mio telefono non ha rilasciato a windows le autorizzazioni per accedere alla cartella. Quindi prendiamo il telefono lo sblocchiamo e vedete che appare questo menu dove viene chiesto che cosa si vuol fare con questo cavo usb. Quindi io vado ora a dire che voglio trasferire i file da android. Ok perfetto. Fatto questo se andiamo a riaprire questo computer e quindi l'iconcina del nostro telefono vedete che troviamo la memoria condivisa interna. Quindi il telefonino ha autorizzato l'accesso. Cliccandoci sopra qui trovate tutte le cartelle che vanno a costruire il sistema operativo del vostro telefono. Attenzione a quello che andate a fare qua dentro perché cancellare cartelle pregiudica probabilmente il funzionamento di alcune app. Per carità poi probabilmente le potrete disinstallare e rimettere però meno si va a manipolare il contenuto delle cartelle meglio è. Le fotografie in android vanno tutte in questa cartella che si chiama DCM indipendentemente dal tipo di android che avete e qui trovate i nomi degli album che voi avete creato ad esempio camera sarà l'album dove troverete le immagini che voi avete scattato direttamente con il vostro smartphone. Ora io ho parecchie immagini quindi ora le caricherà. Trovate le immagini io posso prenderle e trascinarle sul mio sul mio pc quindi vedete questo era il teatro. Attenzione questa attività è un po' lenta soprattutto l'attività di indicizzazione delle fotografie e poi di trasferimento nel senso che quando trasferite le immagini al vostro computer durante questo processo di transfer io ne ho trasferita una ci ha messo poco ma se voi le trasferite 200 ci metterà di più dipende dalla dimensione delle fotografie. Durante questa fase il vostro telefonino sarà totalmente occupato in questa attività quindi non potrete nel frattempo navigare altre cartelle. Il prossimo metodo e ultimo che vi faccio vedere sfrutta un sito di terze parti che si chiama snapdrop quindi dovrete accendere accedere con il browser del vostro pc al sito snapdrop.net ecco il pc si mette in questo stato dove dice che ora sarà riconosciuto come silver tarsier cioè questo è il nome che il mio computer si è dato per questo tipo di attività. La stessa cosa faccio con il cellulare ossia apro il browser e vado anche qua con il browser sul sito snapdrop.net come potete vedere il mio il mio cellulare si chiama aquamarine bird ok questo è un nome casuale che la procedura assegna al computer e al telefono questo per permettervi di identificare il dispositivo il fatto che io veda aquamarine bird sul mio pc mi permette di identificare con certa precisione che sto parlando di questo smartphone ovviamente potrei avere più dispositivi e li vedrei apparire all'interno di questa procedura. Ora per inviare supponiamo l'immagine che ho scaricato prima questa di questo teatro al telefonino non devo fare nient'altro che trascinarlo sopra il mio telefonino andiamo a vedere il telefono come volete l'immagine è già arrivata. Allora lo rifaccio così lo vedete meglio allora lascio aperto il telefono qua sposto l'immagine dal computer e l'immagine arriva. Ovviamente la stessa cosa potete farla dal vostro smartphone verso il computer. Allora per fare per inviare dal telefonino al computer è sufficiente cliccare qua sopra vi chiede da dove prendere l'immagine quindi potete o navigare le cartelle oppure addirittura scattare una fotografia al momento io scatto la fotografia a me col microfono ok facciamo lo scatto perfetto mi chiede se voglio confermare o annullare l'operazione io la confermo perfetto vedete che è arrivata sul computer ovviamente l'utilizzo di questo tool vi potrebbe esporre a dei rischi perché il snap drop è un sito di terze parti che sta ricevendo le nostre immagini quindi lo fate a vostro rischio e pericolo io in questo caso ho ritenuto di non compromettere la mia privacy per cui mi sono sentito tranquillo e l'ho fatto e l'ho fatto se ritenete di dover trasmettere file magari dei pdf dei documenti delle fotografie dei vostri figli che per le quali volete l'assoluta garanzia di riservatezza vi consiglio in questo caso tra i due di affidarvi al cavo spero che il video ci sia piaciuto iscrivetevi al canale mi raccomando iscrivetevi per me è importantissimo che voi clicchiate sotto dove c'è scritto iscriviti al canale è gratuito e vi permetterà di non perdere i prossimi video ci vediamo alla prossima ciao